Ehi, la ciappa, che l'avevo dita? Quello inseminito di mio marito, ecco. Vara, vara, te gai rison? Le proprio indeficiente tu, Marie, per quel narzo a Trent, a quella maniera, che aveva ria dato sberlone anche a me sulla testa, le fa proprio bene a begarghe. Adesso, però, metterlo dentro in prison per una roba del genere. Insomma, adesso che saranno anche i militari, ma mi pare una esagerazione. Insomma, torneranno anche i libri, quando che è finita la quarantena. Fa qualcosa. Ascolta, Godonazzo Trent ha torto papà che la fa su un gazzeri e l'ha messa in prison quegli agitati e le tardi vago. Ma come fai che ci sono i posti di blocco e non si può uscire per il virus? Vara, qualcosa mi inventerò. Cosa vuol dire che mi inventerò qualcosa? Sarebbe ora di cena, mamma. Ascolta, metti su i cani edelli, scalda spezzatini, fa qualcosa. Ciao, Mario, son me. L'ha trovata i capuzzi davanti alla porta. L'ascolta Godonazzo Trent, lei piende i posti di blocco, mi serve qualcosa. Una tutta l'area, un trattor, quel che te vuoi. Vara. Ciao, grazie, si buoni capuzzi. No, Vara, la tutta l'area e la con l'assicurazione scaduta, però con una roba che potrei andare bene. Sperante di non arrivi addosso alla vigolana. Vecchio mio, vecchio mio. Tintus è proprio un candalo strega. Ma andare in bici fin sulla fiera da Marzola e poi prendere tutto quel parabendio per attirare un piazzadone. Perché che avrei pensato? Sono ancora chi in forno e testa. E poi i vigili ti fermano con l'autocertificazione scaduta, dell'altro comune, ti portano a chi delle segrete, ti piazzadone, ti telefoni alla sposa, piangendo, e io dormi, che goffrezza, io dormi. Non si fa, non si fa così, non si fa così, non si fa così. E' il mago di me. S'ha fatta qui che avevi? Dai una fulminare a finita che fa il brillante. Perché mi ha zappato? Per il poter chi in la canna. Ti adesso mi dici se che ti sei veniva a fare a Trent. E' in presa anche. Ero veniva a Trent perché il suo caldonazzo era finita la sbrizzolona. E ti per mangiare le fette di torta ti danni fino a Trent col pijama invece che stare a casa tua maiar pomicotti. Che non gozo di maiar pomicotti. Ma già, quella è Sabine. Ormai i telefoni è tutti i controllati. Ma la Peppi è lo stesso, cosa che aveva ordinato? Eh? No. E adesso ti aspetti che venga a salvarti la sposa? E la calma di me. Aspettati. Clic. Ehi! Sai che ti fai chi che ti avevi di metter sena? Io non c'entro, mamma, non è colpa mia. È lui che è scappato. Io lo stavo uccidando, ma poi la prima. Lui si è ascolto nell'aereo e... Non lo so, l'ho seguito. Non è vero, perché? Facito. Perché? Cosa stai dicendo? Basta! Ve fago su come una stroppa. Voi doi! Ma sì, mamma, stai strada. Cosa vuoi che succeda, mamma? Non si muove mica in film. Eh? Ma se è... Ma... Ma... Piazza Dante, Piazza Dante. Qua volo Val Sugana Alfa. Ghe aveve nel permesso di atterrare in Piazza Fiera. Sa succedere, lo sai che succede? Di semelo! Ma mamma, non capisco. Mi ve l'avevo dita di stare a casa e mettere sulla zena. Ma adesso legami quelle zinture e... Da sempre. Mamma, sai che ne è quella roba? Piazza Dante, Piazza Dante. Ma sa fessughe, ma te lotti su sto aereo? Ma... Sen semmi nidi? No! Da che te sei chi? Fa una delle tue bolle di sauna intorno a lei. Così grande non so, capace, mamma. Ma stichiglie, è proprio matti. Piazza Dante, Piazza Dante. Piazza Dante, rispondete, rispondete. Ti serve qualcosa? Mamma, 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 mamma. Che tonale che mi ci appareccio? Madonna, mamma, mamma. Dove siamo, mamma? Ma mamma, ho paura, mamma. Adesso è impiantata lì. Va a far corsi di nuoto per dese anni. Adesso comincia a nodar che ne fino a San Cristoforo in dei cinque minuti sono arrivati. Vavelo ben? Stelto, non c'è molto tempo. Prima me la si ciappada con i terroni. Poco i extracomunitari, poco l'Europa. E adesso manda l'esercito a sbarga qui che va per Zinfani su per i boschi. Ma ricordate che, Chino, sei la Pontida. Sei una Trent. La tua famiglia è viva. Dopo l'esplosione sono precipitati nel lago di Calonazzo. Ieri, ieri. Ma che bello. Oddio, dei vecchi lagunstrugon. Che bello. Oh, voi due, sai che fè? Si è arrivata. Salve, sono Monica Levinsky, la segretaria del fuga. Che dica, ma sei matata che un sventolo un del genere? Mi, ma lì tu, per venire a salvarti e ti trovo chi in braccia su con la badante dei Fugatti. Sono proprio contento. Almeno l'altro, vada la sbrisolona. No, io la sgama prima, ma almeno ho comprato il marzellino. Aspetta che da una vara a tirarsi su, vada. Ne va là. Che t'accazzò spessatina a casa. E con cosa è che tornano a casa? Ne su dal Simirlo e dopo a San Cristoforo tornare in pedalo.